Buongiorno a tutti, allora video fuori dall'ordinario, inizio questa nuova rubrica un po' così, in cui vado ad analizzare dei testi di canzoni diciamo non nuovissime. Allora in questo caso la canzone di Roberto Soffici, che probabilmente nessuno conoscerà, però almeno ve lo faccio conoscere, canzone del 1978, lui è un cantante nato nel 1946, adesso vi leggo il testo e capirete tante cose per cui, perché è un antesignano come dicevo ieri, del grande Vasco, quando cantò Gabri. Lui anni prima, se non ero Gabri è della metà degli anni 90, e lui nel 78, quindi ben 17 anni prima, cantava questa canzone. Allora inizia con che non sarei di certo stato il primo, l'ho subito capito anch'io, e fin lì, vabbè. Da come mi aprivi le labbra, e poi ho trovato anche un altro testo alternativo, che probabilmente lui non ha mai cantato proprio per questioni di censura. Comunque da come mi aprivi le labbra, tu, l'alternativa era da come mi aprivi le gambe, tu e già lì siamo. Poi proseguiva con, restavi chiusa come fossi un riccio, volevi stare da sola per capire che non sarebbe stata un'esperienza in più. Poi lui proseguiva, ma per intuito di te mi fidavo, e per intuito con te non fingevo. E qui siamo nel ritornello, attenzione, perché viene fuori, eh, viene fuori, punto, non andiamo, eh. Sedici anni, e tanto, tanto donna, da insegnarmi tutto quanto non capivo dell'amore, da spazzarmi tutto il cuore, stare qui come un cretino sul cuscino, coi polmoni senza fiato, e poi ricominciare da capo tutto quanto, come niente fosse stato, come fossi io il primo. Allora, lui aveva, quando ha scritto questa canzone, nato nel 46, siamo nel 78, 32 anni, 32 anni, 16 anni. Qua è abbastanza esplicito di quello che succede. Quindi lui è un antessiniano di Vasco, è un antessiniano di Scusa ma ti chiamo amore, è un antessiniano, anzi, è abbattuto, se vogliamo, scusa ma ti chiamo amore, è pure peggio perché 37, 17, qui siamo al 32, 16. Ed è anche un antessiniano, se vogliamo, dai miei cari amici qua del lago, che ogni tanto venivano fuori dei record tipo 29, 14, 32, 15, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Proseguiamo. Che lettere d'amore ti scrivevo? Da tempo ti volevo fare il filo, ma il franco bollo non ce lo mettevo. 32 anni, 16 anni, lui che fa il filo a lei. Ma sorrido perché oggi è un'abitudine, poterti avere sempre ad ogni istante, però sarei bugiardo se pensassi, sei sempre mia, sei solo mia. Allora, 32, 16, lui è insicuro di poter avere lei per sempre. Rendiamoci conto la differenza, eh. Poi vabbè, prosegue, ma per intuito di te mi fidavo e per intuito ti voglio dare l'universo e tutto quanto di me stesso. Poi prosegue ancora con 16 anni, tanto tanto donna, da insegnarmi tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, stranamente, la censura non ha detto nulla, perché comunque gli hanno cambiato il testo, perché io su Wikitesti l'ho trovato con mi aprivi le gambe tu. Quando sento la versione cantata, lui dice mi aprivi le labbra. però sapete benissimo che ogni tanto i testi degli anni 70 c'era parecchia censura e rispetto a oggi, oggi vabbè, lasciamo perdere che fanno la censura come vogliono loro, in base a quello che gli fa comodo. Allora, vi dico solo, il film di Fantossi che è uscito nel 75, il primo Fantossi del 75 era vietato ai minori di 14 anni, negli anni 80 lo davano nei cinema parrocchiali tranquillamente, proprio perché nel 75 un film come quello di Fantossi capite che merdaccia, coglionazzo, eccetera, 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 magari poteva non andare bene. Comunque, qua abbiamo un 32enne che dice chiaramente che ha una relazione con una di 16 anni. Canzone a me piace molto, ci mancherebbe, però capite che lui non è che ci fa una bella figura perché tutta la canzone è insicuro, le fa il filo, di solito sono le, solitamente, su quelle più piccole che vanno dietro quello più grande, quello più maturo, tra virgolette, perché è cantante, è qua, è su e giù, viceversa, qua abbiamo lui che in tutta la canzone fa la figura del Pinocchietto, stare qui come un cretino sul cuscino con i pulmoni senza fiato, che lettere d'amore ti scrivevo da tempo ti volevo fare il filo, cioè lui che ci prova, 32, 16, poi non so se è autobiografica o meno perché ho provato a vedere su Wikipedia, eccetera, ma non è che si sprecano più di tanto su questo autore, addirittura dicono che la canzone più bella è quella dell'80, io ti voglio tanto bene che francamente rispetto ad altre che ha scritto, secondo me, ne ha scritte di più belle, tenete conto che Roberto Soffici c'è scritto Non credere per Mina, ha fatto l'album dell'87 per Celentano, ha collaborato con Celentano nell'87 per un album che è andato anche piuttosto bene, ha fatto diverse belle canzoni anche per altre, altri, altre, quindi però qua e comunque nella sua diciamo discografia dopo ve ne farò, ve ne leggerò un'altra, tendenzialmente lui ha sempre amato nell'olite nei sedicenni, diciottenni le ragazze giovani, ecco, per intenderci. Detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate sia del testo sia di come ho strutturato questa cosa nuova che farò sulle canzoni e ci vediamo ai prossimi video. Ciao! Ciao!